Rabbia Spalletti nell'in-TV. Nonostante la soddisfazione per la bella vittoria conquistata ieri dal Napoli contro l'Eintracht, non è mancata una vena polemica da parte di Luciano Spalletti nel corso delle interviste del dopopartita. Ancora con Totti e Icardi. Il tecnico azzurro, tra un collegamento e l'altro. Ha ascoltato che in studio si parlasse di come in passato Spalletti abbia avuto delle problematiche con Roma e Inter nel gestire Totti e Icardi. Non è mancato uno sfogo, mentre veniva microfonato, da parte dell'allenatore, mi fanno arrabbiare. Mi parlano ancora di Totti e Icardi in televisione un'altra volta. Stanno parlando di come ho gestito Totti e Icardi, poi ora a uno gli telefono per bene. Glielo faccio vedere come li ho gestiti. Punto. Virgola.